Come posso risolvere le dentiere sciolte? Se hai perso alcuni o tutti i tuoi denti naturali e ora usi la dentiera, può essere uno scenario spaventoso quando le protesi si allentano. Protesi lassiste possono causare problemi quando si tratta di mangiare, parlare e socializzare. Ci sono alcune opzioni disponibili quando si tratta di fissare protesi mobili. Queste opzioni includono l'utilizzo di polveri, l'uso di paste o un viaggio dal dentista per ottenere una soluzione a lungo termine. L'acquisto di un adesivo in polvere in un negozio di droga è uno dei modi più economici e semplici per riparare le protesi mobili. Quando si acquista un adesivo in polvere, è importante leggere le istruzioni sulla confezione e pulire la protesi secondo le istruzioni del dentista prima di iniziare il processo di applicazione della polvere. Dopo che la protesi è pulita, sarà necessario bagnare la dentiera con acqua e applicare la quantità di polvere raccomandata dalle istruzioni. Dovrai quindi scuotere delicatamente la tua protesi per eliminare la polvere in eccesso e rimetterla in bocca. Uno svantaggio di questa soluzione è che potrebbe essere necessario farlo ogni giorno o ogni altro giorno per essere efficace. Un altro trattamento da banco per protesi mobili è la pasta per protesi. La pasta per protesi potrebbe costare un po' di più della polvere, ma può valerne la pena, perché potresti considerarla più facile da usare. Dopo aver rimosso le dentiere dalla bocca e pulito, applicare la pasta leggermente lungo le linee superiore e inferiore delle gengive. Rimettete subito la dentiera nella giusta posizione e dovreste essere pronti. Se per sbaglio hai usato troppa pasta, qualche extra potrebbe sembrare fuoriuscire dalla tua linea di gomma, ma può essere facilmente ripulito bevendo selzero o usando un panno. Se provi un trattamento domiciliare e la tua protesi mobile ti dà ancora fastidio, è meglio chiamare il tuo dentista. Alcuni dentisti offrono metodi all'avanguardia per la fissazione di protesi mobili, come l'inserimento di scatti dentali nella mascella per facilitare il posizionamento o l'aggiunta di una valvola dell'aria alle protesi esistenti, il che può contribuire a farli combattere di nuovo. Se la tua protesi dentaria è estremamente danneggiata o le tue gengive si ritirano eccessivamente, potrebbe essere necessario installare un nuovo paio di dentiere. È vitale visitare il tuo dentista una o due volte l'anno, perché un po' di recessione gengivale è normale e il tuo dentista può tenere d'occhio il modo in cui progredisce come si adatta la protesi. È importante seguire tutti i passaggi appropriati per la cura della protesi, in modo da non causare accidentalmente danni alla dentiera che potrebbero causare un accoppiamento libero.